Buonasera a tutti, buonasera e buonasera al nostro ospite che torna Giuseppe Masala per la Pintadera 25. Ciao Giuseppe! Ciao Stefano, un saluto a tutti. Come va? Abbastanza bene, spero anche te. Via, ci arrabbattiamo tra il caldo, ma d'altronde è luglio quindi non possiamo lamentarci. Allora Giuseppe abbiamo un po' di argomenti, ieri sera abbiamo avuto la conferma di quello che sapevamo che non sarebbe potuto andare Biden al confronto elettorale con Trump, ce ne eravamo accorti anche prima, però sembra che i democratici se ne siano accorti solamente dopo il dibattito televisivo. E cioè quando qualcuno ha detto che il re era nudo. Come la vedi tu questo cambio di cavallo da corsa o brocco? Sì, beh, innanzitutto Stefano significa che i Dem non hanno intenzione di mollare la presa, perché altrimenti avrebbero fatto fare il mandato alla campagna. A Biden perdevano, se ne riparla tra quattro anni. Evidentemente non vogliono mollare la presa, vogliono combattere fino alla fine e quindi hanno dovuto cambiare il cavallo in corsa. In corsa, probabilmente sarà Kamala Harris, ma non è detto, non è detto perché da quello che mi hanno spiegato c'è un inghippo, un inghippo importante. La Harris è accoggiata da chi? È accoggiata da Biden ed è accoggiata dal clan Clinton. Perché? Perché sia Biden sia Clinton non tollerano più insomma le continue incendenze del clan Obama e del fatto che Obama in buona sostanza abbia mosso le fila della campagna che ha fatto fuori Biden in queste legislazioni. Sì, invece il clan Clinton era da parte, non ha preso parole in questa disputa. Sì, il clan Clinton però ha detto che appoggerà la Harris perché ormai erano marginalizzati anche loro dalla strapotere, dall'egemonia del clan Obama. Obama invece non ha dato l'appoggio alla Harris perché ovviamente crede e spera di riuscire ad organizzare un fronte per portare un candidato o una candidata a lui piacente, diciamo così, e che gli consente in buona sostanza di fare il suo quarto mandato, due mandati ufficiali e due invece occulti. Uno occulto l'ha fatto adesso con Biden in sostanza e un altro occulto vorrebbe farlo perché insomma Obama è ingombrante, è una persona di per... Quindi c'è una lotta intestina potentissima, c'è la lotta intestina interna ai dem, in generale c'è la lotta intestina all'interno dell'edita americana. Perché quando si arriva al punto di attentare alla vita ad uno dei candidati dopo che lo hanno arrestato, lo hanno inquisito, lo hanno spiato, le hanno fatte di tutti i colori, cioè parlo di Trump, evidentemente la lotta è all'ultimo sangue e sanno di non poter perdere. Tra le altre cose se hai notato dopo pochi giorni dall'attentato non si trova quasi neanche più un accenno su nessun giornale negli Stati Uniti o altro. Sì, perché ovviamente tutti i mass media più importanti sono in qualche modo legati ai dem, o meglio così, o meglio ancora, ad una visione politica urbana, ricca, elittaria. Non importa che tu sia dem Bush, sia repubblicano Bush o Cheney oppure dem Obama, intanto sono tutti amici e tutti appartenenti alla stessa classe. Trump in qualche modo ha come elemento di, come elettorato di riferimento invece il centomedi impoverito, le classi e le popolazioni che vivono al di fuori delle grandi metropoli. E' un'altra classe della cintura della cintura della ruggine. Esatto, sì, hanno un altro elettorato. Tutto quell'elettorato che si è impoverito lentamente, menesorabilmente, a causa di che cosa? Di quello che è stato il momento unipolare, il momento della globalizzazione, il momento dell'arricchimento facile per le classi agiate, ma è il momento anche della dannazione e della distruzione per le classi povere, per chi per vivere ha bisogno di lavorare, per chi non campa di speculazione di borsa, o di high tech, magari prodotto però in Cina. Ecco, tutte queste classi impoverite si sono coagulate attorno a questo outsider, Trump, ora anche a Vance, che è un esponente di questa società sconfitta. E' una società che ha istanze diverse, totalmente alternative alle istanze, come dire, delle classi agiate. America first, vuol dire reindustrializziamo l'America, pensiamo a noi, freghiamocene delle guerre attorno al mondo, non ci interessa cosa fanno gli altri, noi siamo l'America e noi dobbiamo ritornare ad essere potenza anche manifatturiera, dove esiste anche il sogno americano, dove tutti possono anche in qualche modo arricchirsi. Questo è il... Sì, in pratica, riattivare quell'ascensore sociale che si è incriccato. Sì, otto anni fa, otto anni fa, questo messaggio è stato dirompente. Trump era veramente una cosa inaspettata, la sua vittoria è stata uno shock devastante. Lo è tuttora, perché s'hanno provato a spararlo, evidentemente fa paura. Però allo stesso tempo, secondo me, è molto meno pericoloso rispetto a otto anni fa. Perché un po' le misure le erano prese. Un po' le misure le erano prese e poi ci sono anche altre due problematiche fondamentali. Problematica numero uno, il mondo non è più quello di otto anni fa. C'è una enorme guerra a pezzi in corso e sarà difficile tornare indietro. Peraltro, idem, è l'elite che abbiamo detto prima, anche i neoconservatori, i busciani, i dicenei, eccetera. Tutta questa gente qua ha anche ancora tempo per spingersi ancora più avanti e per rendere a Trump impossibile. Poi ne riparliamo, prendere impossibile il suo piano. Che da quello che si capisce sostanzialmente, secondo me, l'uomo si è accorto che gli Stati Uniti non ce la fanno a vincere tre guerre gigantesche. Una in corso in Europa dell'est, una in corso in Medio Oriente e una potenzialmente in itinere in Estremo Oriente. Il Pivot Asia, che dovrebbe circondare la Cina, si è accorto di questo fatto. E infatti lui l'ha detto, l'ha detto, se ci fosse stato un leader accorto, non Biden, gli Stati Uniti avrebbero già trovato un'intesa con la Cina, con la Corea del Nord e con la Russia. Il che cosa vuol dire? Innanzitutto si nota che sta facendo fuori l'Iran, che non lo nomina. Lo nominano altri però, e mi fanno anche più paura. Per bombardarlo lo nominano. Sì. E appunto. E quindi, in qualche modo, il senso di quello che ha detto Trump sarebbe questo. Tra noi ci mettiamo d'accordo, però a me lasciatevi l'Iran, è il meglio vinto. Senso mi sembra questo. Esatto. Come hai detto tu, è un mondo diverso da quello che c'era otto anni fa, ed è diverso anche da quello che c'era quattro anni fa. E non è più che questi paesi siano disconnessi l'uno dall'altro. Non puoi separare, ora come ora, un conflitto, cioè chiudere un conflitto con la Russia in Europa e aprirne uno con l'Iran pensando che la Russia non se ne interessi. Esatto. E quello è il punto. E quello è il punto. Noi sappiamo che la Russia sta per firmare un accordo strategico con l'Iran. Era stato annunciato, Giuseppe, hai notato che era stato annunciato addirittura dal reggente facente funzioni prima delle elezioni e confermato immediatamente dopo l'elezione dal presidente nuovo. E' certo. E poi, l'Iran e l'Unione della Russia hanno già, ieri, hanno proprio annunciato un accordo per portare il gas russo, che non va l'andrà in Europa, in Iran. Attraverso il Caspio e fare dell'Iran, che ha 100 milioni di abitanti, una popolazione giovanissima e anche istruita. Molto istruita, esatto. Ricordiamoci che non ci siamo solo noi, ma che ci sono anche gli altri a questo mondo. E che in Iran ci sono più laureati donne che uomini, ricordiamoci anche di questo. Sì, e la Russia vuole dare energia per farne una grande potenza manifatturiera. Esattamente. Esatto, perché la Russia ha raggiunto il suo limite occupazionale, ha la piena occupazione, non può crescere oltre, non può fare nuove industrie, perché non ha la mano d'opera. Quindi può o attingere alla mano d'opera iraniana o spostare parte dell'industria e investire in Iran. Esatto. E tra l'altro quel gas sarà talmente tanto, qualcosa come 90-100 miliardi di metri cubi all'anno, servirà anche per rifornire altri paesi. Probabilmente sì. Addirittura parlavano dell'India. Ed è l'Europa che rischia di rimanere a bocca asciutta. Sì. Ed è una cosa enorme, perché stanno andando verso la deindustrializzazione. Ora, in un panorama come questo, che è maturato nel 2024 e che nel 2016 non c'era, ipotizzare che la Russia non intervenga a difesa dell'Iran nel caso di un attacco americano o russo o israeliano è pura, come dire, fantasia. Interverranno sicuramente, e l'ha detto anche Lavrov ieri. Ha detto, noi ci prenderemo le nostre responsabilità in caso di attacco all'Iran. E non solo, non solo, è ancora perché, pensando a quanti miliardi sta investendo la Cina in Iran, in infrastrutture di trasporti energetici, perché riceverà petrolio e gas, e portuali, oltretutto perché ha bisogno di una base sull'oceano indiano, è chiaro che difenderanno anche loro il loro investimento. Sì, sì. È tutto interconnesso ormai. Ormai investimenti e anche energia che poi dall'Iran arriverà sicuramente in Pakistan e dal Pakistan in India. Esattamente. Il grande obiettivo di Putin è quello. Sì. Sta nascendo un nuovo mondo e noi siamo tagliati fuori. Qua noi vogliamo fare la guerra con le pale eoliche e con i pannelli fotovoltaici, che peraltro li fanno i cinesi e se non ci li vendono manco quelli ci abbiamo. Siamo governati da irresponsabili. Punto. Fammelo dire. E non mi riferisco a questo governo. O non è per carità di Dio, non è colpa manco loro, sono qui da due anni e questa storia va da anni e anni, va avanti. 35 anni. C'è una quantità enormi. No. Tu pensa a quei pidini, i pidini per anni e anni ci hanno solo detto più Europa, qualunque problema più Europa. oppure ce lo chiede l'Europa. Alla fine cosa ci ha portato l'Europa? La distruzione. Perché ancora non è chiaro a che livelli. Riassumendo in breve, noi dall'Europa abbiamo avuto abbassamento del potere d'acquisto degli stipendi. Eravamo secondi in Europa nel 1993 quando è stato firmato l'accordo per il contenimento del costo del lavoro per far fronte alla globalizzazione e oggi siamo tra gli ultimi. Giusto? Dal 2002 in avanti abbiamo perso pesantemente potere d'acquisto, competitività e peso economico in Europa, mentre altri paesi dell'Europa si sono fortemente arricchiti, evidentemente a spese nostre. E certo. Giusto? Ecco, in più abbiamo ceduto sovranità, abbiamo perso il controllo sulla Costituzione che viene bellamente ignorata e bypassata a suon di decreti della Commissione europea e abbiamo meno diritti di prima. Esatto. Perché nel frattempo ci combattono anche i diritti sociali che la Costituzione ci garantiva. Esatto. Io ho... Un bel affare direi. Un affarone. Un affarone. E' anche giusto parlarne... Io inviterei i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori, a fare una riflessione. Che è la Seconda Repubblica, quella che ci ha portato in Europa e ci ha portato nella perdizione e al disastro assoluto. La Seconda Repubblica è nata con le stragi di Capaci, di Via Rameglia e con le stragi di Firenze, Roma e Milano. Tutte stragi politico-mafiose. Tutte stragi politico-mafiose, nel senso manovaranza mafiosa, perché era la manovaranza quella mafiosa, eh? E interessi altri e poteri altri. Compreso il colpo di Stato giudiziario, l'offer. Sì, sì, esatto. Che hanno tagliato la testa alla Prima Repubblica, al pentapartito, ma anche hanno demolito il Partito Comunista Italiano, perché quello è. L'hanno demolito, ideologicamente e sotto ogni aspetto. È nata questa cosa qua per prometterci l'Europa ed ecco dove siamo arrivati. Però ricordatevi dove è nata. Ricordatevi quando è nata, che è nata con le stragi, eh? Quello va riscordato. Concordo. È nata con le stragi. E chi ne è uscito vincitore, eh? Per anni e anni ha fatto tutto quello che voleva. Privatizzazioni, spesso regali gentili agli amici, loro. Distruzione del welfare state. Tutto nel nome di che cosa? Dell'Europa. Ora l'Europa è arrivata. Il disastro. E penso sia... Beh, fatto questa premessa che io penso era necessaria, senza fare nomi, ognuno studierà per conto suo e vedrà di farsi le lucidazioni che gli tiene più opportune, le riflessioni più giuste. Possiamo anche parlare della nuova Europa. Della Europa nata dalle elezioni europee. Il popolo europeo, i popoli europei hanno votato. I padroni dell'Europa, le élite europee, hanno detto di come avete votato, non ce ne frega un cazzo. E noi rimettiamo la baronessina von der Leyen, che ha fatto un discorso mirabile, per follia. Ah, ecco, per un attimo l'hai fatto tremare. Sì, mi rabbia per follia, no, perché quella donna ha una calamità naturale, ci ha promesso un... un commissario per il Mediterraneo, ci ha promesso un commissario per la difesa e quindi con queste due... All'Italia? All'Italia o in senso europeo? In senso europeo. Ah, ok. No, perché mi sembrava strano. Ci ha promesso queste cose qua, come cittadini europei, perché? Mediterraneo perché è diventato di modo strategico dopo 30 anni in cui il cuore dell'Europa, anche energetico, era il Baltico e il Mare del Nord. E dove nessuno ci ha fatto mai toccare palla. Qualcuno ha mai pensato facciamo il commissario del Mare del Nord, del Mare Baltico, così anche i paesi del sud d'Europa esprimono la loro opinione nel loro interesse? No. Ora che invece è centrale, vi spiego tra un attimo il perché, di nuovo il Mediterraneo, immediatamente si fa il commissario al Mediterraneo. In questo modo l'Italia non può dire la sua o fare una sua politica perché viene imposta dalla Commissione. Esatto, esatto. Allora, prendiamo il punto di vista energetico. Ormai il gas arriva in Europa da dove? Dal TAP, Azzerbaigian, Caucaso, Turchia, Grecia, Puglia. Poi dal gasdotto algerino, Algeria, Sicilia, il resto d'Italia. Libico, Libia, Sicilia, il resto d'Italia. Il mar Mediterraneo è fondamentale. Senza il Mediterraneo siamo senza energia. Sì. Il mar Mediterraneo è fondamentale. Senza il mar Mediterraneo, senza stretto di Suez, non c'è possibilità di arrivare verso i nuovi mercati dei prossimi decenni come appunto Iran, Pakistan e soprattutto India. Oltre che ovviamente Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, eccetera. Però questo è il quadro. Sta nascendo un nuovo mondo lì, per i prossimi 30 anni. Noi da dove passiamo per arrivare lì? Se vogliamo fare qualcosa. Da Suez, dal Mediterraneo. C'è un mar Mediterraneo che diverta centrale di nuovo per merci e per energia. Aggiungo anche un'altra cosa. Telecomitaria. costruzione del cavo che porta i dati da Bombay alla Sicilia all'Europa. Ok? Sì. Strategicissimo, fondamentale che abbiamo fatto. l'abbiamo venduto agli americani. Fantastico. Le reti le abbiamo vendute agli americani. Anche le nostre interne. Sì, anche quelle interne. Così ci spiano meglio. Abbiamo venduto a loro ad un fondo il KKR diretto dal generale Petreus, ex direttore della CIA. Che strano dire che si interessi di cavi di informazione e di dati. Poi ancora. Poi ancora. Il bello è che l'abbiamo venduto prima che arrivassero i soldi del PNRR. Le reti Telecom hanno avuto un finanziamento approvato dal PNRR per quasi 6 miliardi di euro. Quindi adesso se li becca il del KKR. Bravo. Cioè scusa siamo all'ABC al buonsenso del bottegaglio proprio quello normale. Se so che mi arrivano i soldi faccio gli investimenti e poi se lo vuoi te lo vendo a un prezzo più alto. Bravo. Invece l'hanno venduto e i soldi arrivano a loro. Però poi il PNRR i soldi li restituirà all'Europa il popolo buo italiotta. Sento le risate da Washington. Sì anch'io. Perché come ci hanno preso Sì sì sono quelle sono quelle. Ok. No come. Però abbiamo della gente brava tutto sommato al governo. Sì saranno stati ricattati non lo so bu. Ma voi mica che siano così filoamericani da non accorgersi che le stanno introducendo qualcosa. Ecco sì quindi un Mediterraneo importantissimo per quanto riguarda le pipeline di latini abbiamo già svenduto agli americani ora le politiche ce le faremo dettare per le energie per le rotte commerciali dal nord d'Europa dalla commissione europoide. Quindi traffico delle merci immagino che verranno dirottati a Marsiglia no magari in Francia oppure in qualche altra zona e non arriveranno a Genova no no le fanno arrivare non è non è quello a farle arrivare le fanno arrivare e lì bisogna aspettare un'altra cosa sia a Genova sia a Trieste Venezia altri porti insomma non è quello bisogna vedere i porti ogni tanto sento una cosa bisogna privatizzare i porti anche quello capito vediamo chi se li compra no tedeschi o l'annunzio io ti ho fatto una cosa il porto di Cagliari era in mano ai tedeschi anche Trieste se non sbaglio sì ma Trieste gli serviva quello di Cagliari l'erano tenuto sostanzialmente fermo pagavano per non usarlo usarlo al minimo no per favorire i loro porti cioè loro conveniva pagare la concessione a Cagliari per toglierlo di mezzo per levarselo dai coglioni e quindi gestivano loro capito allora più conveniente è così e madame Albright continuerà Albright si chiama lei sì von der Leyen da sposata continuerà a fare questo tipo di politiche complimenti a chi l'ha votata e complimenti a quelli che non l'hanno votata ma che hanno fatto tanti bei sorrisi a bracci con lei fino al giorno prima che uscisse fuori la notizia che ci aveva esclusi dai posti dalle poltrone e allora è morto l'iddiglio quindi finché si trattava di fare una divisione delle poltrone e andava benissimo quando gli ha detto le poltrone non le do a voi e allora è finito l'iddiglio e adesso tra le altre cose abbiamo anche lo stesso problema con la Nato perché Stoltenberg che se ne sta andando verrà sostituito dall'olandese strisciante che odia odia gli italiani letteralmente e l'ha detto più volte ti ricordi quando disse mai soldi all'Italia no? Sì Sì Stiamo parlando di Ruth per capirci Sì Diciamo che la Nato da sempre nella sua come dire nelle sue cariche politiche è quasi sempre voglio dire in mano a persone del nord Europa Ruth Stoltenberg è precedentemente uguale sempre loro mentre la carica militare quella del Saceur è sempre in mano agli americani adesso c'è Christopher Cavoli che è di origine italiana e parla anche in italiano ma è americano ovviamente Sì Niente questo è quanto io vabbè hanno già fatto per quanto riguarda la Nato abbiamo avuto noi un come dire un simposio un vertice uno show diciamo così militare diplomatico tenutosi a Washington per i 75 anni dell'Allianza Atlantica settimana scorsa se non mi ricordo 10 giorni fa comunque qualche giorno fa a proposito di Nato no? Sì e abbiamo sentito cosa hanno deciso hanno ovviamente oltre che approvare la ratificare in qualche modo la Ruth no? l'olandese hanno deciso comunque di continuare a trasferire finanziamenti all'Ucraina che è la guerra del continuare trasferiranno adesso in estate gli F-16 e soprattutto hanno studiato un meccanismo per il quale i finanziamenti e gli aiuti arriveranno all'Ucraina anche se si interromperanno dagli USA i famosi 40 miliardi che devono mettere i paesi della Nato nel caso nel caso di Vittorio di Trump che Trump dice non vi do più nulla no? questo è il punto scusa ma adesso come adesso no? perché al di là dei proclami poi Trump dovrà passare dal mondo di fantasia alla realtà dei fatti no? anche lui perché chiaramente la situazione non è come se la racconta abbiamo fatto l'esempio dell'Iran no? e dei rapporti che ci sono e che intercorrono con Cina e Russia ora il meccanismo che si è introdotto avendo la Nato tutti i paesi compresi gli Stati Uniti esauriti i magazzini di materiale che non serve non è strategico cioè il DPU ora quello che devono dare lo danno quando hanno prodotto i pezzi nuovi e loro possono dare i pezzi vecchi all'Ucraina quindi si fa sul prodotto non sul magazzino e il prodotto va pagato i 50 miliardi che vengono dati all'Ucraina con garanzia degli utili dai beni del fondo sovrano russo vengono dati all'Ucraina in armamenti ma vanno negli Stati Uniti per pagare la produzione degli armamenti che devono esserle consegnati cioè gli Stati Uniti si impegnano a consegnare questi 50 miliardi ma vanno alla loro industria per produrre le cose che devono e noi paghiamo alla fine perché siccome l'Ucraina non pagherà il prestito lo pagherà qualcun altro e siccome gli utili del fondo sovrano non saranno 50 miliardi noi sborseremo la differenza probabile anche perché se dovessero trovare un accordo di pace gli devono ridare quei soldi altrimenti non ci sarà pace allora per quanto riguarda la questione pace il piano Trump di cui si parla e che ne ha scritto anche oggi Johnson su un giornale lo speaker della camera no? no Johnson Boris l'ex premier ah ok Boris Johnson si mi sa chi ne ha scritto sul telegrafo non mi ricordo o sul mail o qualcosa ha detto allora piano di pace congelamento della guerra concedere ampia autonomia anche linguistica di tutti i tipi alle regioni russofone confini del 91 poi magari daranno la Crimea durante le trattative è una follia e questo sarebbe il piano di Trump si ma che cazzo lo prende sto chi è? si mettono a ridere ovvio ma è follia è follia praticamente il piano ma anche anche solo se concedessero i confini che ci sono adesso no? la Russia non accetterebbe perché la Russia si interessa solo una cosa l'Ucraina neutrale che vuol dire non entra neanche più nell'Unione Europea sì perché l'Unione Europea è parte in causa del conflitto e l'hanno già detto non entra nella Nato quindi non vogliono eserciti stranieri all'interno del territorio ucraino che rimane e l'Ucraina in gran parte smilitarizzata punto sì se non partono da questo la Panina infatti non so se conosci di Elena Panina sì 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 la Panina l'ha detto che è un piano che non andrà da nessuna parte però insomma i russi gli americani con Trump secondo me se la vogliono giocare con l'astuzia dando anche altre cose tipo vediamo di ritornare le sanzioni vediamo la possibilità di ritornare ai rapporti precedenti allo scopio della guerra eccetera eccetera tutta roba che ai russi non gliene frega più niente ormai hanno preso accordi con cinesi con indiani con iraniani con nordcoreani hanno fondato un altro mondo e non torneranno più indietro secondo me allora per cui la guerra continuerà e qui ora c'è il problema dei problemi tu sei un esperto militare io no e qui è il problema dei problemi però e qual è il problema dei problemi che gli ucraini finiscono sono una commodity carne da macello come commodity e prescoltarli finiscono sì per forza di cose finiscono le fortificazioni e finiscono l'oro finiscono anche le risorse militari che abbiamo da mandargli perché non è che possiamo togliere non possiamo togliere carri armati ai nostri eserciti per mandarli a loro e che facciamo a questo punto accettiamo la realtà a un certo punto accettare la realtà significa che cosa che abbiamo perso la guerra ecco e quindi cosa significa che finisce finisce la l'egemonia americana in gran parte del globo il deterrente della nato è sparito e di fatto noi ci accontenteremo di tenere le sanzioni contro la russia di chiuderci nel nostro guscio e poi in alternativa in alternativa invece di accettare la realtà e che vogliono mettere al muro tutti i governanti che ci hanno messo in questo casino esatto primo e secondo il problema è che la nostra classe dirigente ha una percezione della realtà sufficiente a capire che è meglio dichiarare di aver perso il conflitto indiretto in Ucraina che rischiare di finire tutti bravo no ecco è quella non è quella e da cosa lo deduciamo ebbene dal fatto delle dichiarazioni della von der Leyen innanzitutto bravo dal fatto che ha detto facciamo il commissario della difesa la campagna di riarmo esatto che vuol dire facciamo un altro marchio e poi continuano a dire continuano a ripetere che ci sarà la guerra con la Russia nel 2029 quindi danno anche la scadenza tra cinque anni no come dire eh vabbè ma come dire a quelli lì eh oh se se ci credete se ci prendete sul serio fatela subito poi c'è un'altra cosa hanno annunciato allora innanzitutto ricordiamo che Trump nel 2018 mi pare uscì dal trattato INF sì il dispiegamento dei missili a miglioraggio intermedi no sì perché sono diversi da quelli a miglioraggio i missili intermedi sono dei missili che continuano ad avere il boost sì erano usciti anche da quello dei missili a miglioraggio eh e beh visto che c'erano sì ad avere il boost quindi l'accelerazione dal motore anche in fase discendente sì esatto quindi dalla Germania ad arrivare a Mosca ci mettono quattro minuti ovvero sia qualcuno di più qualcuno di più però no 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 quattro minuti sono velocissimi dalla Germania sì quattro minuti ok i russi li chiamano missili per il decapitation strike sì missili per l'attacco di decapitazione cioè mi fai un attacco a sorpresa con quella roba lì io non ho manco il tempo per difendermi esatto e magari mi hai sterminato tutta la catena di comando gente che piazza missili attenzione perché quello è un sistema che impone una risposta automatica e cioè non ordinata da catena umana ed è pericolosissimo perché se tu schieri questa tipologia di missili imponi al tuo avversario di creare una rete di risposta automatica sì sì anche in assenza di comando umano quindi come vedono che ci sono delle esplosioni un sistema fa partire immediatamente i missili di risposta automaticamente poi ancora poi ancora ci sono le due batterie antimissile sì in Polonia e in Romania Aegis Ashor non sono propriamente batterie antimissili sono sistemi per l'intercettazione dei missili intercontinentali e anche per il lancio dei missili cruise sì e dunque possono essere usate per l'attacco bloccano bloccano la risposta a un attacco preventivo che è il rischio che indicava Noam Chomsky quando spiegava che un sistema di difesa antimissile non è un'arma difensiva ma un sistema offensivo perché va a troncare la mutua distruzione reciproca assicurato bravo a tale proposito aggiungo il programma di Trump prevede la costruzione di un mega iron dome negli Stati Uniti personalmente io ritengo che qualunque sistema antimissile trova il suo livello di missili a saturazione per il quale o a farsi bersagli per il quale voglio dire alla fine passano cioè il sistema antimissile è in realtà una trovata per far fare miliardi alle industrie esattamente perché poi alla fine a passare passano però intanto lo fanno e ti danno la farsa percezione che tu sei invulnerabile e anche la Fonderlion nel suo discorso come dire come lo definito prima delirante e voglio dire stratosfericamente delirante lo ha detto che anche l'Europa deve lottarsi di un sistema antimissile che la protegga non sono tutte queste cose il segno che si sta andando verso la pace ma al massimo queste trattative trampiane mi danno l'idea di un qualcuno che vuole guadagnare tempo sicuramente sì sicuramente sì poi se sono queste le premesse assolutamente non è un piano che servirà a risolvere il problema c'è troppa gente che ha delle false speranze io lo ripeto spesso una volta che poi si trova a dover fare i conti con la condizione reale dell'economia americana beh le scelte sono limitate le scelte diventano molto limitate purtroppo la condizione anche finanziaria anche monetaria non è delle migliori e più nasce un mondo nuovo più nasce un mondo nuovo Russia Iran India Cina eccetera più l'Europa e gli Stati Uniti e gli Occidenti diventano marginali sì oltretutto stanno guadagnando enormi spazi di influenza commerciale in Africa anche sì anche l'India e anche l'India teniamo presente non è che l'India non si sta ricreando il suo spazio lì lo fa anche l'India questo è quello che ti sto dicendo sì è una situazione non delle migliori insomma no esatto non è una situazione delle migliori per come la vedo io e voglio dire la situazione economico finanziaria americana è quella di chi appunto ormai ha oltre 20 mila miliardi di debito di posizione finanziaria netta passiva ha uno allora il saldo delle partite correnti passive dal 78 mi pare ha la bilancia commerciale passiva dal 72 io lo dico e lo dirò sempre attenzione su questa faccenda gli americani non hanno tutti i torti quando dicono non ci potete lasciare col culo per terra hanno molte ragioni dalla loro parte sì sì tutte le volte che lo dici si scatena il putiferio tra i commenti ma io ho capito il discorso che fai allora oggi è l'anniversario dell'inizio della conferenza di Bretton Woods 22 luglio del cos'era 74 no 44 44 ok ma poi c'è stato Bretton Woods 2 no non c'è mai stato ah ok ok nel 71 l'hanno superato ma la sua architettura fondamentale rimane ora ora gli americani nel 44 qual era la situazione del mondo la Cina era arretrata e distrutta sì il Giappone era distrutto e anche nuclearizzato di lì a poco nel 45 44 ormai era solo sì gli americani sapevano già che avrebbero vinto la guerra sì certo era solo questione di tempo perché le risorse giapponesi si esaurivano l'unione sovietica era distrutta da Mosca fino a Ivano Franchischi e aveva enormi perdite quindi uno shock demografico pazzesco anche l'Europa compresa Francia e Inghilterra erano distrutte chi si è preso il mondo in carico per risollevarlo gli Stati Uniti e questo è un merito storico c'era anche un'altra classe dirigente altre persone ma era quello il periodo comunque era quello il periodo era quello il periodo storico erano l'unica economia in piedi si sono caricati il mondo sulle spalle questo va ammesso ok hanno stabilito delle regole hanno istituito delle istituzioni le regole erano un dollaro 35 grammi se non mi ricordo o 35 grammi di oro ok se non mi ricordo male no era di meno 35 grammi mi sa ora non mi ricordo ma comunque si era agganciato all'oro ah ok adesso è 75 euro se non sbaglio un grammo eh certo poi poi hanno fatto creato delle istituzioni fondo monetario la banca mondiale perché sapevano che squilibri commerciali protratti per lungo tempo portano alla guerra quindi col fondo monetario loro dicevano riusciamo a evitare il peggio quando una nazione sprofonda e hanno ragione ebbero ragione non era il mondo perfetto quello che usciva da Bretton Woods però usciva un mondo accettabile la cosa ha funzionato fino al 71 in parte continua a funzionare ancora oggi l'unica cosa che cambia che cos'è è che il dollaro non è più legato all'oro ma il dollaro nel 71 Nixon lo ha sganciato il 15 agosto del 71 ma voglio dire è legato al petrolio il petrodollaro perché i sauditi hanno accettato di farsi pagare il petrolio in cambio di protezione militare americana di farsi pagare il petrolio in dollari e basta questo è il meccanismo tutti avevano bisogno dei dollari tutti accettavano i dollari l'america esportava nel mondo dollari l'america aveva un enorme vantaggio tecnologico per il quale comunque anche se esportava dollari riusciva comunque ad esportare anche beni ad alta tecnologia che tutto il mondo comprava e quindi le bilance commerciali eccetera eccetera il saldo delle parti di corrente rimaneva tutto in più o meno in equilibrio fino al 2008 2008 non ci avevano circa 3 miliardi 3 mila miliardi di posizione finanziaria netta negativa che è tanto ma allo stesso tempo è accettabile per una potenza di quel livello crack di borsa per tutti i motivi che conosciamo i mutui subprime eccetera eccetera ma in realtà il problema di fondo è che i finanziatori internazionali stavano ritirando i loro capitali certo e hanno fatto il crack cosa che sta accelerando tra le altre cose dal 2008 no non ci siamo più ripresi nessuno in occidente non si è ripreso più nessuno ma gli americani in 16 anni sono passati da meno 3 mila miliardi in posizione finanziaria netta a meno 20 mila miliardi ormai tutto il mondo si spaventa e dicono noi richiediamo i capitali gli americani con delle operazioni che si chiamano repo fatte dalla banca centrale ok che noi in Italia in Italia chiamiamo pronti contro termine rifinanziano le banche con i soldi che vengono sottratti dagli investitori esteri così che è da non farle crollare ma sta roba non può durare in eterno e da qui le guerre e da qui tutto quello che è successo compreso loro cosa hanno fatto hanno individuato nella Germania e nel nord Europa uno dei concorrenti più feroci che avevano che li stava rovinando hanno individuato in questi paesi qua e hanno fatto saltare il cordone ubericare con la Russia perché loro lo dicevano la Merkel deve spiegare questo discorso si fa dare il gas a basso prezzo dalla Russia producono con basso costo e sono più competitivi dei nostri e ci mangiano il mercato americano dalle automobili a molte altre cose come se non bastasse diceva Trump noi americani spendiamo soldi per pagarvi la difesa esatto e diceva voi dovete pagare le nostre spese bravo cioè non è che gli americani hanno tutto torto poi c'è l'altro corno del problema la Cina e tutto il sudest asiatico Giappone che sono ricchi sfondati Corea del Sud che sono ricchi sfondati Singapore che fanno da lava stoviglie del danaro come come del resto Lusselburgo e l'Irlanda lo fanno qui Taiwan Taiwan uguale e tutto qualsiasi altro agglomerato di soldi o meglio di posizioni attive gli americani devono sfondare quella solo che sta nascendo un altro mondo come finirà non lo so però è difficile allora cioè proprio l'altro giorno il buon Lavrov che non è uno scemo l'ha detto noi siamo qui al Consiglio delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza presiedeva il Consiglio di Sicurezza per due giorni l'ha detto l'ha detto noi vogliamo una nuova Bretton Woods noi vogliamo un nuovo World Trade Organization con nuove regole esatto che è un modo anche di dare l'assist agli americani sì e anche perché vogliono mettere in chiaro che non si possano più fare le sanzioni unilaterali chiaramente anche perché anche la Cina si è lamentata di questo perché ha detto noi svolgiamo le nostre attività sulla base delle regole della WTO del World Trade Organization e voi non potete mettere sanzioni alle nostre banche via dicendo sì però anche se tu ti ricordi Trump già va polemizzato con il World Trade Organization volevano nuove regole è un assist che Lavrov sta lanciando ma lo lanciano alla disperata perché qui non si capisce come ne vogliano uscire gli americani gli americani da qualche parte devono perdere è quello che devono capire anche se hanno molte ragioni cosa intendo dire si oltretutto caratterialmente Trump e Vance non sono le persone più inclini a a a a comprenderla sconfitta eh lo so allora cioè qua il punto è questo no se tu vuoi il dollaro come moneta per gli scambi internazionali allora hai due strade strada numero uno importi merci dal resto del mondo e sporti dollari ovvio che però le classi medie degli Stati Uniti soffrono perché soffrono perché ovviamente se tu importi merci lì c'è meno lavoro che importi dall'estero quello che ti serve sì giusto giusto l'altra cosa che riuscirà a convincere è che i dollari gli altri paesi li devono prendere a prestito e quindi pagarci su un interesse non accetteranno mai infatti infatti pensavano per quello di ritrasformare gli Stati Uniti in un paese industrializzato fondamentalmente ma per far diventare gli Stati Uniti un paese industrializzato devi mollare il dollaro perché o l'uno o l'altro è quello che dico io devi scegliere sì sì ma infatti la dedollarizzazione sta procedendo e che lo molli no no diventa una cosa di fatto diventa una cosa di fatto quello che io quello che io sto provando a dire è questo che un processo di questo genere lo devi fare in maniera ordinata e avrendo preso accordi perché se il processo di dollarizzazione agli americani degli imponi alla fine gli americani si ritrovano come una via di mezzo tra la Repubblica di Weimar e l'Argentina del Corralito sì una via di mezzo solo che una Repubblica di Weimar all'Argentinata con 6.000 bombe nucleari 3.800 ma il senso è quello ecco 3.800 possono bastare sì no capito che devi trovare un accordo non glielo puoi imporre così cioè loro devono capire scegliere o si reindustrializzano e mollano il dollaro o si tengono il dollaro e accettano che le loro classi medie si impoveriscano ancora di più però avranno le classi ricche che vivono di rendita di Wall Street o che vivono di finanza eccetera che continueranno ad essere ultra ricche però saranno isolette isolette Silicon Valley Santa Monica San Francisco Manhattan in un mare di miseria devono scegliere e io non credo che sarà la scelta di Trump questa non lo so cosa vogliono fare questo è che non è chiaro no no infatti non è chiaro per niente quello che dico io di Trump è che se nel 2016 era veramente un outsider che poteva cambiare le cose ora le cose sono talmente incasinate non ha margine di manovra non ha molti margini di manovra e l'altro aspetto è questo l'altro aspetto è questo a me mi sembra che stia prendendo tempo quando dice porterò la pace nel mondo perché non ci sono i presupposti tecnici tra quello che vogliono loro e quello che vogliono gli altri e per altri intendiamo tre quarti del mondo sì e oltretutto intendiamo anche nazioni che sono in grado di difendersi perché anche quello conta altro che non è l'Honduras per capirci gli altri sì con tutto il rispetto per l'Honduras però per dire il classico solito nemico degli Stati Uniti è il paesino di turno che tipo Panama fanno le spedizioni punitive tipo Grenada sì le uniche guerre che hanno vinto alla fine delle fini e poi insomma vediamo anche altre realtà vediamo oltre che appunto il posizionamento nel 2025 appunto dei missili a raggio intermedio che poi saranno nuovi missili a bassa osservabilità radar sicuramente nuovi missili probabilmente anche ipersonici quindi ancora più veloci eccetera eccetera fino alla roba ma abbiamo anche appunto queste scaramucce come per esempio i B-52 che si spingono fino al mare di B-52 che erano di tipo nucleare cioè nel senso che abilitati al trasporto delle armi nucleari missili contestata nucleare tant'è che sono decollati da parte russa MiG-31 e MiG-29 perché sono decollati queste due tipologie di aerei i MiG-31 dovevano lanciare missili a lunga gittata e distruggere i bombardieri B-52 e i MiG-29 intercettare i missili da crociera che arrivavano con le testate nucleari questo a distanza l'avvicinamento è stato fatto con rotta polare ed è stato un attacco simulato al bastione il bastione è il luogo dove prediligono avere la manovra dei sottomarini nucleari strategici e dove ci sono le basi della marina della flotta del nord russa russa murmask esattamente e poi sono ritornati attraverso lungo il confine con la Finlandia scortati dagli F-18 finlandesi e oggi 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 i B-52 strato sport si sono arrivati in Romania prima volta in assoluto sono atterrati sì sì perché di solito volteggiano da quelle parti in taxi arrivano fino lì e poi tornano indietro sono atterrati questa volta ma è unico appunto dall'idea della situazione oppure ancora voglio dire le 15 basi in Finlandia dove arriveranno gli americani cioè la realtà di fatto non è quella di chi sta costruendo la pace sì ma di chi sta si sta preparando al conflitto al conflitto aperto e noi abbiamo appena illustrato sul perché le ragioni economiche sul perché questo conflitto aperto sembra purtroppo inesorabile dicendo anche lo ripeto per la miliardesima volta gli americani su quel punto hanno le loro ragioni però non è questo il modo sì il problema che hanno è che molti che ricordano purtroppo due figure i generali del film il dottor stranamore di Stanley Kubrick e quelli di Failsafe con con Henry Fonda e in entrambi i casi c'era sempre qualcuno che diceva approfittiamo della situazione e scateniamo l'attacco totale perché non avremo un'altra possibilità come questa di coglierli di sorpresa perché dico questo perché alla fine delle fini c'è ancora qualcuno che sta manovrando per arrivare all'attacco al primo attacco cioè aggredire noi con armi nucleari la russia c'è convinto di contenere entro un termine accettabile gli eventuali danni dalla risposta russa sì e per chiarire i danni accettabili siamo noi i morti accettabili esatto vabbè sì 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 hai detto bene tu a me sai di tutta questa cosa che spaventa di più non c'è spaventa non c'è a me quello che fa più riflette che io vorrei capire e non capirò mai perché non ho accesso alle segreze stanze come non ce l'hai tu purtroppo ed è questo cioè i tedeschi cioè che accettano una cosa del genere cioè che dicono lo schieramento di missili intermedi in Germania è una soluzione saggia tu sei matto beh ma sono anche quelli che gli hanno distrutto il Nord Stream 2 e sono stati zitti si completamente asserviti cioè mettere quei missili in Germania significa che la Germania diventa automaticamente bersaglio del della rappresaglia russa che sarebbe sostanzialmente immediata e probabilmente di tipo nucleare sicuramente di tipo nucleare questo lo capisco io lo capisci tu lo capisce chiunque immagino ma vedrai che qualcuno dirà ma metteteli anche da noi i missili ti dico solo una cosa quando furono schierati negli anni 80 questi missili Pershing 2 i missili a raggio intermedio occidentali furono schierati anche a Comiso in Sicilia perché perché avevano il compito di colpire il fianco furono schierati in Germania e in Italia in Germania per colpire il fianco nord dell'Unione Sovietica no? si ma ha Comiso per colpire il fianco sud la Crimea il Caucaso il Volga eccetera il Caspio eccetera ora ti dico solo una cosa la geografia dal 1980 ad oggi è rimasta la stessa esattamente se li mettono in Germania molto probabilmente ci chiederanno di mettere in Italia oppure li metteranno in Romania o o in qualche paese lì sempre che non li stiano già mettendo e non dicano niente esatto benissimo va bene avevamo altri argomenti ma direi che abbiamo fatto qua un'ora e venti e possiamo anche finire la puntata benissimo la Pintadera 25 si chiude ringrazio il nostro ospite e co-conduttore Giuseppe Masala abbiamo fatto passare sei mesi dalla scorsa puntata speriamo di non lasciare passare altrettanto un saluto e un abbraccio a tutti voi iscrivetevi ai nostri canali e via a presto ciao 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 ciao